Durante le giornate FAI di primavera, Caltanissetto ha mostrato un notevole impegno nel promuovere la valorizzazione del suo ricco patrimonio culturale, nel fornire opportunità di crescita e coinvolgimento attivo sia alla comunità locale che ai visitatori. Giovani ciceroni provenienti dagli istituti superiori della zona, come il liceo classico Ruggero VII, il liceo scientifico Alessandro Volta, il liceo artistico Rosario Assunto e l'Istituto d'Arte Iuvara di San Cataldo hanno sapientemente guidato i visitatori lungo il suggestivo percorso del barocco sacro, svelando i profondi legami della città con la nobile famiglia dei Moncada. Questi giovani sono stati preparati e formati dalla soprintendente beniculturali e ambientali Daniela Vullo, insieme alla storica Rosanna Zaffuto Rovello e all'associazione Moncada, garantendo così un'esperienza educativa e coinvolgente per tutti i partecipanti. Accanto ai giovani ciceroni si sono trovati i volontari della Croce Rossa Italiana e dell'associazione Civici Volontari Antincendio Xirbi Caltanissetta, pronti a garantire un'esperienza sicura e appagante per tutti i partecipanti. Sono delle occasioni, le giornate FAI di primavera, per riprendere contatto con il nostro territorio, sia sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, sia sotto il profilo culturale e artistico. Noi siamo molto soddisfatti con l'anticipazione a scuola, che è un'occasione che abbiamo voluto creare per rendere partecipi i nostri giovani delle giornate FAI e farli entrare nello spirito delle giornate FAI. Abbiamo avuto un successo clamoroso, circa 300 ragazzi sono arrivati qui. Vedere i loro sguardi così ammirati rispetto ad un'opera artistica per noi è stato un motivo di grande soddisfazione. Peraltro gli abbiamo dato anche la possibilità di avere la spiegazione nelle loro lingue madri per quelli che erano stranieri e anche questo è per noi un motivo di vanto. Già che FAI per noi è anche FAI integrazione.